Sono 44 le convenzioni già sottoscritte dai comuni beneficiari del bando sulla valorizzazione dei borghi della Calabria. L'impegno di spesa finora è di 60 milioni e 400 mila euro. In totale sono 73 i comuni ammessi a finanziamento con risorse pari a 100 milioni di euro. A comunicarlo è il Dipartimento Cultura della Regione Calabria. La firma ha consentito di concludere legittimamente le procedure e di garantire la correttezza dell'azione amministrativa In totale la dotazione finanziaria del bando borghi è di 136 milioni di euro. Di questi 36 milioni sono destinati alla valorizzazione ricettiva e turistica verso attività private. Attualmente sono circa 3.000 le domande in fase di valutazione da parte delle quattro commissioni divise per ambito a cui è stato richiesto di procedere a ritmi serrati per concludere l'iter nel più breve tempo possibile. Ho creduto al progetto borghi fin dall'inizio della mia nomina ad assessore ai beni culturali. All'epoca, ricorda il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirli, chiesi alla presidente Santelli che questo bando ritornasse nelle competenze del Dipartimento dei Beni Culturali dopo che per tanto tempo era stato maldestramente trasferito all'urbanistica. Da subito ci siamo adoperati per superare gli ostacoli che ne impedivano l'avvio. Mi auguro che questo progetto sia una pietra angolare nella costruzione della grande rete dei borghi di Calabria, un tesoro di questa nostra terra. Ai borghi va dedicata la massima attenzione nella speranza di una rigenerazione dell'intera Regione. Ed ai borghi, conclude Spirli, che dovrà ripartire la nuova Calabria, anche digitale, che potrà accogliere il turista e diventare residenza futura non solo di chi l'ha lasciata, ma anche dei nuovi calabresi provenienti dal resto d'Italia, dall'Europa e da tutto il mondo.